Ciao a tutti, sono Dalia Zampiollo e frequento il quarto anno dell'indirizzo turistico. Ho scelto questo indirizzo perché sono appassionata e ho sempre avuto la passione e il piacere di comunicare con le persone sia attraverso la mia lingua sia anche attraverso delle nuove lingue, le lingue straniere. Sono anche una grandissima appassionata dell'arte, infatti ho sempre avuto la curiosità verso la scoperta di nuovi luoghi e apprezzando le loro bellezze sia dal punto di vista storico, culturale e anche paesaggistico per poi poterle condividere e anche comunicarle con la gente. Questa scuola e soprattutto questo indirizzo, oltre alla scoperta e allo studio di nuove lingue, dell'arte, di nuovi territori ti permette anche di acquisire delle competenze tecnico-professionali come insomma per quanto riguarda l'amministrazione e o la contabilità. E come ho detto all'inizio, frequento il quarto anno e posso dire che non mi sono assolutamente pentita di aver scelto questo indirizzo, anzi spero di proseguire gli studi per poi arrivare insomma dove è il mio sogno che sarebbe quello di diventare una guida turistica. Buongiorno a tutti, io sono Tomas Andreotti e frequento la classe quinta turismo e ho scelto questo indirizzo perché io non sono proprio una cima in matematica non sono molto bravo e ho visto che qua insomma di matematica se ne fa poca sono più bravo nelle lingue e queste sono materie che mi interessano molto anche storia dell'arte è una materia molto interessante, in pratica ero già bravetto alle medie e allora ho scelto questa scuola perché sembrava quella più adatta a me. Non ho avuto problemi subito appena ho visto dal Gioborienta che io l'ho fatto a Polesella perché frequentavo la scuola Crespino, non ho avuto problemi a scegliere questa scuola infatti appena me ne hanno parlato ho scelto subito. Finora non ho ancora trovato problemi con la scuola perché comunque ti trattano bene qualche divergenza con i professori ma è normale. io sono in quinta quindi ne ho fatti di anni in questa scuola però non ho avuto nessun tipo di problema i prof sono bravi, spiegano bene, mi sono sempre trovato bene e il mio sogno nel cassetto è quello di lavorare in un albergo di lusso o fare la reception oppure in un villaggio turistico dove c'è soprattutto di più la parte in cui si fanno gli animatori infatti mi piace intrattenere le persone spero che scegliate questa scuola perché vi dà molti sbocchi nel mondo del lavoro infatti io appunto come ho detto prima non ho avuto dubbi nel scegliere questa scuola e ti prepara molto e niente speriamo vi piaccia o interessi mi chiamo Ghina Tirene, frequento la classe Quinta A indirizzo turismo mi piace molto questo indirizzo di studio perché ti porta a contatto con le persone e ai medesimarsi in esse ma anche le materie che si studiano qui come per esempio le lingue, economia e diritto e storie dell'arte potranno aiutarti in molti ambiti lavorativi ma anche in ipotetiche scelte di università una volta finiti i cinque anni mi piacerebbe trovare un lavoro che rispecchi ciò che ho studiato così da poter mettere in pratica ciò che ho acquisito in questi anni